Tenere la posizione, la palla torna fuori per Katash, le mani ancora velenose di River, il recupero per Carlton Myers fino in fondo con la schiacciatona per in panchina Shimon Mizrahi, il presidente della formazione israeliana. Gran recupero per Myers che riceve poi da Wilkins, scarica una palla difficile per Fucca che l'appoggia al vetro e va comunque a bersaglio. Gora dal suo numero 10, lavora con tranquillità ma adesso siamo agli ultimi 5 secondi dell'azione Wilkins per Myers allo scadere dei 30 secondi, solo rete, sulla bomba di Carlton Myers. Griffith scarica per Carlton Myers, gli dà 4 metri per tirare, se anche esce questo tiro c'è buona situazione a rimbalzo, la palla infatti è ancora per la team system, Myers si pensa un po' e poi alla fine è solo rete, bomba. Europa è suo il tentativo di rimonta, almeno l'inizio di questo tentativo per il Maccabi, Myers prova a frustrarlo, palleggio, arresto, tiro, morbida esecuzione per Myers. Sbagliato, tocca Griffith, controlla Dangay, 3 contro 1, reverse per Myers che appoggia al vetro, segna, subisce il fallo, andrà in lunetta col tiro. Adesso in campo per la team system, ultimi 10 secondi dell'azione, Myers isolato contro Schaeffer, secondo me vuole tirare da 3 punti, infatti da 3 punti tira e segna anche, bomba per Carlton. L'aiuto di Rashard Griffith, Schaeffer contro Myers, ultimi 10 secondi, ancora troppo isolamento per la team system, Myers forza, segna un'invenzione. Jack Dominic Wilkins, palla dentro per Fucca contro Radovic che gli scena ancora molti centimetri, stavolta Schaeffer raddoppia e Myers lo fa pagare col tiro da 3 punti. Lungo su lungo nella difesa della team system, Fucca intanto andrebbe raddoppiato, così non è fuori la palla per Myers, altra bomba di Carlton Myers. Senta da Fucca che va a sua volta da Carlton Myers, palla troppo ferma per la team system, Myers però prende il tiro da 3, sì, sì, Carlton Myers, bomba!